Aveva scippato nel giugno scorso una turista straniera di un prezioso orologio di marca Paté Philippe del valore di circa 80.000 euro, ma nel darsi alla fuga aveva perso il cappello che indossava. Grazie alle tracce genetiche da esso rilevate dalla polizia scientifica, il personale del commissariato di Forte dei Marmi è riuscito a risalire alla sua identità e a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, protagonista della vicenda un giovane di 26 anni residente a Napoli. Un arresto compiuto nel contesto di una più ampia attività strutturata voluta dal questore che ogni anno in prossimità della stagione estiva viene svolta nel comune del Forte in Versilia in generale al fine di prevenire proprio questo tipo di crimini. Sono stati numerosi infatti gli episodi simili che si sono ripetuti negli scorsi anni, sempre con bande di criminali pendolari che dalla campagna si spostano sul litorale versiliese appositamente per rubare orologi di valore. Nei mesi scorsi polizie e carabinieri hanno effettuato numerose denunce ed arresti proprio di soggetti dediti a questa attività criminale riducendone sensibilmente la frequenza.